benvenuti a tutti ragazzi benvenuti a questo video io sono già dei pregamer bros e oggi siamo su batman bay a the return of the joker allora ragazzi questo è un gioco per nintendo 64 che è davvero molto se magari il bug si stesse fermo e niente è molto particolare questo ragazzi è stato uno dei primi esseri dei giochi di batman ad essere usciti è stato devo dire come gioco non è anche niente male l'ho provato solo che a differenza dei batman quelli che conosciamo noi oggi al giorno d'oggi quelli che conosciamo noi al giorno d'oggi è completamente diverso questo praticamente questo è un batman in vabbè in alta dei primi proprio è un picchiaduro a scorrimento ragazzi molto ne esisto come dire cercando di mettere lo schermo intero più che mai ecco ora va bene iniziamo io ragazzi se ne siete da fronte potrei fare una serie su questo gioco vi dico solo comunque sto batman a differenza degli altri è molto ma molto difficile moltissimo perchè in questo gioco non ci sono salvataggi non ci sono e... praticamente se moriamo dobbiamo cominciare dall'inizio del livello quindi un po dall'inizio volevo dire c'è più difficile di così ragazzi non può essere ve lo dico 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 e vabbè iniziamo bene inoltre ragazzi mi sono accorto che i video che vi ho caricato ieri sono molto piaciuti quelli su Plagator e su cosi i video su Plagator e sull'altro su Halo perché ora ragazzi sento di portarti giochi così inoltre ragazzi stavo pensando se voi siete d'accordo riguardo ai giochi Batman magari su questo gioco non sono sicuro che ci farò una serie ci farò un video si ma la serie interna penso che non ce la farò perché ragazzi è troppo difficile il gioco e anche se ci dovrò impiegare in tanto tempo per farla se vi farò questo video poi vedrò se ne farò un altro ma deciderò man mano perché vedo se vi piacerà questo primo video e ne farò meno meno un altro vabbè se ne farò oh porca merda ok già io 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 e i tenere ok siamo la prima boss fight e mora cosa fa si fa le pesanze ok l'abbiamo partito è la prima boss fight è la prima boss fight ok vabbè l'altra ragazzi questi erano proprio uno dei primi di batman erano e qua dovevo giocare molto sull'offensiva su questo livello perchè i nemici erano molto molto si il si 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 ok vediamo ok un minuto ragazzi e sposto la ecco spostando la pagina in modo che si desse che è un problema di resta perché non registro diciamo lo schermo in piano perché se metto lo schermo in piano succede che non mi provo a vado a camminare e ci sono più se il calmero e non si vede il video c'è due porte le batte vive mi servivano e se non vuoi vede a e Non c'è un po' di bata, non c'è un po' di bata Ok No Piork Non so Siamo pronti, sarà una battaglia difficile, ma dovremmo vincerla. E' un altro questo che l'ho mai sopportato. Ok, l'abbiamo partita. Ok, l'abbiamo partita. Ok, l'abbiamo partita. Nibble va. Per questo livello, ragazzi, diciamo, devo volare. Ma questo è un gioco picchiaduro che, diciamo, devi sapere alternare le varie unità di Spy, e in ogni... i battoli. Cioè, una volta si... se c'è una modalità difensive, una volta è più forte. Certo. 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 Vabbè ragazzi, devo trovare una vittima rafforzata. ma come caspi da far raggiungerli? ma oh sbagliato ho salvato già rapido taglio ragazzi allora ragazzi eccomi tornato mamma mia c'è sta parte che è difficilissima se dio non andrà su però non so che oggi lancio il joystick fuori della finestra lancio poi caricamento rapido ragazzi riprendono appena supero la parte ok ragazzi ce l'ho fatta ora siamo arrivati in questa zona oddio adesso è un punk si vabbè ragazzi ragazzi non fate caso la 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 notifica di gladiator ok ragazzi eccomi di nuovo ho salvato la partita stavolta bisogna il meno ok 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 oddio ok ok ce l'abbiamo fatta di l'altro che lo è che ok è è che è li abbiamo eliminati tutti ma sto salvando i ragazzi giusto per sicurezza ma vengono un calcio iniziali vengono vorrei evitarli però purtroppo non posso devo battermeli tutti giusto quanto fa l'abbiamo finito ecco il boss ragazzi prima di iniziare salvatore ragazzi avrei visto fortissimo taglio ragazzi taglio ok ragazzi sembra che ce la sto facendo certo non stiamo messi bene con la vita però dai neanche lui ce l'abbiamo fatta a uno di vita a uno per il senso che è un boss difficile ma abbiamo vinto anche questa ma ma è il senso e anche questo livello è battito e anche questo livello è battito e vedrei nimble foro io perchè forse che siamo al combattimento finale ragazzi non vi garantisco niente ok 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 questo livello questo livello è pieno di trappole a ah ecco come devo riuscire ad attaccarmi quindi si mi sarebbe un'altra perché mi pare che mi pare che c'è il livello che c'è il picchio c'è il livello dell'acqua Gli addio Sapete che c'è ragazzi Standard Mi conviene fare standard Se no Sentiamo sto lì Il cavolo O comunque devo capire O che ha fatto non domani Devo capire Perché non battere con Scusi Scusi Un po' Ok No vabbè non c'è capire niente Io ragazzi ci provo un'ultima volta Non c'è capire 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 Lo sai che non c'è capire Io non c'è capire Non c'è capire Lo sai un po di corti 4 la tua volta quanto pare abbiamo quasi livello finale ragazzi questo deve avere il livello finale per caso mi dispiace un po' che siano solo 5 livelli un po' mi dispiace vero dai se riesco a vincere a questo livello è fatta salvo comunque io la partita per motivi personali oddio ancora questi io odio questi mamma mia poi si hanno le armi e poi la peggio questo ultimo livello ragazzi ce l'abbiamo non 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 si 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 dai Va 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 vai Ok Oh no ragazzi Che palle Che palle Che palle Che palle Ci riprovo un'altra ragazzi No vi Ci vediamo al prossimo episodio Sì Va bene ragazzi Senza vi chiudo qui il video Io perché adesso Ho da fare con me Se vi è piaciuto lasciatemi un commento e un piace Iscrivetevi al canale E Il resto lo sapete